Siamo con Giovanni Farano, organizzatore di questa ultramaratona il giorno precedente. Direi Giovanni già un grande successo, quest'anno il record di partecipanti e soprattutto anche un po' una novità sull'Expo presentato anche in questa giornata. Sì, quest'anno abbiamo fatto i cambiamenti sostanziali, abbiamo cambiato la location che ci permette di essere più concentrati anche logisticamente per cui penso che si svolgerà tutto, speriamo che si svolga tutto nel migliore dei modi. Noi chiaramente con questa situazione di location sia arrivo che partenza siamo molto avvantaggiati rispetto agli altri anni. Anche chi usufruisce dei servizi per ritiro pettorale tutte docce penso che troverà dei grossi vantaggi. Come hai detto quest'anno abbiamo battuto tutti i record, non era scontato perché l'anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza serie dovute principalmente al maltempo, qualche difetto anche da parte nostra. Per cui quest'anno abbiamo veramente messo l'anima per cercare di migliorare qualcosa, speriamo che tutto vada bene e ripeto, per ora i risultati ci stanno dando ragione perché abbiamo fatto il record assoluto, oltre 2000 iscritti, oltre 200 più del precedente record, 350 più dell'anno scorso, sicché sono numeri che secondo noi per ora ci lasciano grande soddisfazione. Speriamo di essere all'altezza e di riuscire a soddisfare tutti. Allora siamo con Giovanni Vivarelli, pettorale numero uno, una cosa importante che la Strasimia ha ottenuto quest'anno, per quale motivo? Questo è un peso di tante responsabilità, numero uno perché comunque deve arrivare in fondo, questa è la prima cosa. Siamo qua, in questo splendido ambiente, con questi splendidi amici, grazie all'organizzazione, all'amministrazione, a tutti quanti, perché siamo per vivere una giornata di sport, di emozioni e di viaggio insieme con la professione. Buonasera a tutti, ben trovati con la rubrica Potismo e Atletica, insieme a me quest'oggi abbiamo anche Fausto Risini, presidente della Filippide, da circa un anno, quindi a me l'onore di traghettare la Filippide all'età della maturità, cioè al diciottesimo anno. Siamo alla diciottesima edizione, la mattinata si è presentata subito bene, le condizioni meteorologiche finalmente hanno assistito questa gara. Eh sì, quest'anno per fortuna si è potuto anche riprendere la competizione anche con le motociclisti, ringrazio prettamente tutta la scorta che c'è stata, poi il discorso anche di Carlo che mi ha seguito per tutto il tracciato del percorso in maniera encomiabile. Quindi ringrazio anche proprio il personale di servizio che avete, diciamo, curato bene sotto questo aspetto che... Finalmente appunto una giornata di bel tempo, dopo le ultime due edizioni che veramente il tempo era veramente brutto, vento, pioggia, freddo, quindi difficoltà per tutti, ecco, compresi voi per le riprese. Quest'anno veramente è andata nel verso giusto, siamo soddisfatti. Una location anche nuova, quindi anche questo ha permesso probabilmente di migliorare alcuni aspetti, rispetto anche agli anni precedenti. Eh sì, in effetti grazie anche all'amministrazione comunale e alla società che ci ha messo a disposizione la piscina comunale, diciamo che l'organizzazione è davvero funzionata tutta al meglio. Nella sede abbiamo fatto la consegna dei pettorali già dal sabato mattina, la domenica mattina abbiamo proseguito nello stesso posto senza i soliti spostamenti degli altri anni, ampi parcheggi, doccia, pasta party, tutto all'interno. Record di partecipanti, oltretutto anche quest'anno, quindi una novità importante, questa significa che sta crescendo sempre di più questa manifestazione. Record di partecipanti, abbiamo superato finalmente la soglia dei 2000, alla partenza 2050 iscritti. Un numero impressionante, anche da un punto di vista organizzativo a volte un po' di preoccupazione, ci sono sempre prima della partenza. Ci sono sempre prima della partenza, invece tutto liscio. Poi anche 500 iscritti alla non agonistica, quindi insomma il nostro risultato è davvero straordinario. 2600 persone è stato finalmente raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati da sempre. E poi da un punto di vista anche agonistico, direi grandi partecipanti anche in questa edizione, in ogni reparto, dalla 10 km, dalla 21, alla 34, alla 42 e alla 58. Quindi veramente da sbizzarrirsi un po' in questo tragetto che costeggia tutto il lago Trasimetro. Sì, avevamo atleti di grande preparazione e conseguentemente questo ha reso anche importante ogni traguardo. Avevamo quest'anno una novità rispetto agli anni precedenti, avevamo un responsabile per ogni traguardo, un iscritto della Filippide che si è preso l'impegno di gestire interamente il proprio traguardo. Quindi Gianni Pellegrini al decimo chilometro, quando sono andato appunto con la Tiziana Buonfiglio, amministratore delegato di Umbra Acque per le premiazioni, ho visto il sorriso di Gianni e ho capito che era andato tutto bene. Così come alla 21, a Passignano, Gino Polverini, soddisfatto, tutto era andato nel verso giusto. Così come alla 34 con Peppicelli, Marco Peppicelli è la stessa cosa. E poi la 42, la mia soddisfazione personale, Fabio è il mio pupillo, Matteo Merluzzo che vince questo traguardo. E fra l'altro vedremo, vedremo proprio perché abbiamo seguito in maniera particolare questa gara della 42 perché effettivamente è stata quella più movimentata, più incerta, più spettacolare, diciamo da un punto di vista proprio agonistico. Quindi vedremo un po' nel proseguo della gara. E intanto qui andiamo un pochino alla grande panoramica dei concorrenti. Abbiamo visto la strisciata iniziale, poi i concorrenti subito portarsi avanti, quelli che diciamo chiaramente facevano più la 10 chilometri, ma all'interno di questo gruppo di testa c'erano anche personaggi che poi avrebbero fatto la 58, la 42, la 34. Quindi insomma veramente una varietà molto ampia di partecipanti, da quelli più, come diciamo, della domenica che fanno la passeggiata a quelli invece agonisticamente preparati, che ovviamente una gara del genere non si può improvvisare in 10 giorni. No, assolutamente no. Compiere un percorso di questo tipo, una 58 chilometri, occorrono tantissimi allenamenti, tantissima preparazione. E ancora una volta vince Carmine Buccilli, che per la terza volta consecutiva, anche facendo un bel tempo, insomma poco più delle 3 ore e 30. E fra l'altro doveva fare, diciamo, l'ho sentito lungo il tracciato, addirittura avevo fatto anche un'intervista lungo il percorso, ma purtroppo il vento, la moto, l'ha disturbato, quindi non possiamo mettere quell'intervista che ho fatto, che avevo chiesto a lui se era in grado di poterla fare, questa intervista, quando mancavano 10 chilometri alla conclusione. E quindi mi ha detto, dice, effettivamente ho un pochino calato. Tentavo di fare il record della gara, purtroppo poi ha avuto anche un problema, si è dovuto fermare perché ha avuto dei problemi fisici, alimentari, e quindi dopo è ripartito. Però l'ho visto abbastanza sofferente all'arrivo, mentre nella fase iniziale era imperterrito, ho visto proprio determinato nel poter correre e fare determinate cose. Sì, davvero un bell'atleta, ecco, che per la terza volta vince questa gara, insomma è per noi un piacere ormai ospitarlo. L'altro Gliva è l'Ucraino, invece, che ha avuto dei problemi. Lui è crollato, è crollato tra il quarantesimo e il quaranta cinquesimo chilometro, l'abbiamo seguito, anche lì l'abbiamo visto fermo, e purtroppo era in difficoltà. In effetti forse è partito veloce o non stava bene, perché poi alla fine basta poco, basta anche un'alimentazione non fatta correttamente, che le prestazioni poi... Poi è una gara lunga, insomma, può succedere di tutto su 50 chilometri, quindi non è una cosa che si può dire, vabbè, più o meno faccio 10 chilometri e sappiamo indicativamente che potrebbero arrivare quelle, quell'altro possono arrivare quasi tutti. Una 58 parti, ma non sai se arriverai. Non sai se arrivi, quindi passare sotto quell'arco della 58 è comunque una grande soddisfazione. Io colgo l'occasione anche per dire questo, che la Strasimeno è per noi una gara che abbiamo organizzato, appunto alla diciottesima edizione, è sempre sul percorso asfaltato, però la nostra linea di indirizzo è quella di poter utilizzare sempre di più il tratto ciclabile. Quindi ecco, magari qualcuno forse non rimane soddisfatto di questo, perché... Eventualmente il problema è più che altro tecnico, quindi se uno va a cercare il risultato tecnico, è chiaro che sul breccino non hanno un'aderenza così importante come nell'asfalto e così via. Quindi è chiaro che poi alla fine vanno a guardare il cronometro tutto e dicono ma come mai ci ho messo così tanto o meno? Sì, effettivamente è questo, però per noi è una scelta irrinunciabile. Capite bene che correre per 58 chilometri sull'asfalto impegnando le strade di percorrenza è estremamente difficile e inoltre espone anche i podisti a rischi che noi vorremmo proprio evitare. Quindi man mano che la ciclabile viene completata, noi utilizzeremo sempre di più. Mi spiace per coloro che magari pensano di poter fare il proprio tempo, di migliorare il proprio tempo. Effettivamente sullo sterrato, sul breccino, la cosa è più difficoltosa. È però per noi una linea di indirizzo irrinunciabile, quindi io ascolto tutti i commenti con piacere, però questa è una linea che per noi non verrà modificata. Quindi quest'anno abbiamo introdotto questo ulteriore pezzo di ciclabile, prossimo anno ospitiamo che completino ulteriori tratti e poi al momento che verrà completato sarà tutto perfettamente sulla ciclabile. Però vi dà ragione perché il numero è sempre maggiore, pertanto vuol dire che la formula sta funzionando. Ecco qui vediamo proprio una sfumatura anche del percorso. Questo è il primo tratto quest'anno innovativo, quello della 10 km che è stato fatto lì in prossimità del Lido Trasimeno. Questo è il tratto che stiamo per rientrare sulla 71. Quindi chiaramente abbiamo 300-400 metri sull'asfalto, poi giriamo per Borghetto e quindi all'arrivo del decimo chilometro. Qui abbiamo visto, diciamo, fra i protagonisti, gli atleti della Polisportiva Polociano che tutti gli anni su queste distanze qui sono un po' i maggiori artefici, dopo sulle distanze più lunghe lasciano spazio agli altri. Però in questa fase qui avevamo veramente 5-6 atleti nei primi 10 che ha fatto onore. Questo è invece il protagonista della 21 km che poi lo vedremo successivamente. E intanto andiamo proprio verso il Borghetto dove c'è il primo step, diciamo, il primo arrivo della 10 km con Ebel Murad, che veste i colori della Polisportiva Polociano, che ha condotto la gara fin dalle prime battute in testa, un atleta che era stato fermo per qualche anno e quest'anno si è rappresentato con risultati importanti anche a livello nazionale, addirittura ha vinto la settimana prima a Torino, insieme ad arrivare secondo ai campionati di staffette di cross. Intanto vediamo gli arrivi al Borghetto, leggermente spostato rispetto a due anni fa, come per raggiungere chiaramente 10 km. Esattamente, infatti Murad ha fatto un bellissimo tempo, nonostante abbia corso nel tratto sterrato. Ha corso mi sembra in 32-13, 32-24 per Lembo, Angeloni ha impiegato 32-50, poi Tartaglini, Taos, entrambi della Polisportiva Polociana, poi Fortunato, Annetti, Trippella, Mori e Banelli. Questi sono i primi 10 assoluti, mentre in campo femminile la Francesca Volpi, dell'atletica Avis e Sansepolcro, va a vincere. E qui vediamo intanto il passaggio della 21, l'atleta che è passato in maglia rossa, che dopo diremo chi sarà, sta transitando, quindi già alcuni collocati già nelle posizioni di testa, come Buccilli, che arriva insieme al decimo della categoria delle 10 km, fa capire che portata, che ritmo hanno questi atleti a quel livello lì. Sì, sin dall'inizio ha fatto capire che era pronto per affrontare tranquillamente queste 58 km. Questo traguardo era difficoltoso, perché in realtà c'è l'arrivo e c'è la prosecuzione. Quindi negli altri anni un pochino di confusione si crea. Però ho visto che bene o male, l'importante è anche quella separazione con quei birilli, ha permesso di capire un attimino, poi una monte, ovviamente indirizzare un po' l'orientamento per quelli che terminano, per quelli che proseguono, quindi ci vuole un pochino a volte doccio anche da parte di chi corre, e ovviamente anche da parte degli organizzatori. Però tutto sommato abbiamo visto che la cosa sta funzionando benissimo. E direi che quest'anno anche la 10 km rispetto agli anni passati, che era forse quella meno numerosa, lo vista abbastanza, diciamo, cotata. Qui intanto vediamo la Volpi Francesca che va a vincere la gara femminile, e ora fra non molto ci saranno interviste sia per il primo che per la prima concorrente. Vediamo che arrivano comunque sia ognuno, a seconda delle proprie caratteristiche, arrivano abbastanza affaticati. E si hanno tirato, questi 10 km l'hanno tirati davvero. Io personalmente sono sempre per le gare più lunghe, in maniera tale che mi prendi un passo più lento e meno stressante rispetto invece a queste gare brevi dove devi da tutto in pochissimi chilometri. Allora, siamo con Murad che comincia a saporare sempre più spesso la vittoria, tornando un po' alla vittoria dei vecchi tempi, e anche oggi è stato un bel risultato. Sì, sì, è stato bello, anche il percorso comunque era troppo pianeggiante, quindi ci sta, anche il tempo è bello. Francesca, hai vinto questa prima diciamo tappa della Strasimeno con un bel risultato, è tutto sommato soddisfacente. Poi stamattina senza garmi, quindi ho fatto tutta sensazione, devo dire che è stata ripagata. Contenta della prestazione e soprattutto diciamo come sta andando la stagione? Contentissima, per ora è partita bene, speriamo di continuare, ma ancora di strada ce n'è da fare, di chilometri ci sono. Ed ecco, adesso proseguiamo per il secondo step, quindi seconda tappa che è quella della 21 chilometri, che anche questa è una delle gare particolarmente diciamo numerose che desiderano molto gli atleti perché è una specie di confronto con se stesso per poter dire ma potrò tentare di fare una maratona, la farò, non la farò. E quest'anno poi abbiamo visto nella 34 invece il numero veramente importante perché è proprio funzione maratona. Sì, effettivamente è il famoso lungo che viene fatto per poi fare successivamente una maratona, appunto probabilmente la maratona di Roma. In effetti i numeri vanno in progressione in questo specifico traguardo. Comunque l'aumento c'è stato su tutti e quest'anno anche sulla maratona che in realtà la 42 era sempre un pochino meno... Penalizzata, era un po' penalizzata perché effettivamente chi fa la maratona dice ma se devo scegliere faccio un altro percorso forse più adatto per raggiungere un risultato anche tecnicamente più evoluto. Considerando che poi sulla maratona noi abbiamo organizzato il campionato nazionale dopo lavoro ferroviario quindi insomma un po' di prestigio... Oramai è una tradizione anche quella che si consolida negli anni insomma. Noi abbiamo abbiamo un soggetto che poi comunque fa la 58 però passa sempre prima su questo traguardo che è un ferroviere. Lui è l'unico ad aver fatto 18 edizioni su 18 gare organizzate. Veramente tutti gli anni è presente e con vero piacere lo premiamo perché è un ferroviere di quelli fedeli alla nostra gara e quindi ci fa piacere ogni anno in ospitarlo. Qui in questa fase hanno scavalcato hanno fatto la grande salita. Quella salita lì è tosta eh? La salita è tosta. Se uno la prende con la giusta il giusto diciamo metodo diventa tagliagambi. Sì che poi si risente per i chilometri successivi quindi è bene per prenderla sempre con le giuste cautele e poi qui e poi il percorso migliora c'è un falso piano in discesa una leggera discesa poi un falso piano piano in discesa che porta poi al traguardo della 21 km. Sì ecco c'è l'inserimento sulla diciamo sulla pista ciclabile sulla sterrata qui intanto vediamo la protagonista la Maria Casciotti che determinata vediamo proprio concentratissima su questo tratto di percorso abbastanza tranquilla nella sua azione che poi ha condotto fino al traguardo finale dietro c'era l'Olivieri una umbra che corre con i colori del gruppo su Trio Fiorino ma insomma sempre molto valida e qui ecco vediamo che cominciano ad esserci i famosi diciamo di stacchi quindi frazionamenti molto molto ampi tra i vari concorrenti man mano che aumentano le distanze gli stacchi aumentano sensibilmente quindi diventa ecco qui in alto vediamo anche Merluzzo che sta conducendo una gara abbastanza corta insieme all'atleta inglese che c'è stata una battaglia fra di loro c'è stata una cosa bellissima poi vedremo veramente era un ping pong fra i due concorrenti che qui intanto vediamo ecco i protagonisti che vediamo fatichemente dietro ma davanti un'atleta che poi avrebbe fatto la 58 cioè già protagonisti della 58 essere già in prima fila intorno alla mezza quindi voglio dire che qui ecco qui vediamo Gliva che era abbastanza tranquillo sembrava qui era in terza posizione mi sembra perché davanti c'erano tutti gli atleti che facevano distanze la 21 o la 34 e quindi diciamo era in buona posizione questo tratto qui ecco è leggermente sterrato forse come spinta si spinge un pochino peggio rispetto all'anno scorso comunque migliore l'anno scorso era pieno di bozze d'acqua quindi era un problema e qui intanto vediamo proprio concentratissimo per quanto riguarda Buccilli che veramente in questa fase non proprio non ascoltava ascoltava solo se stesso quindi è un momento quasi delicato della corsa perché siamo soltanto diciamo neanche a metà gara però è determinante avere una concentrazione qui invece vediamo il protagonista della 21 chilometri che è Giuseppe del Priore della Women in Run un atleta a Rombardo quindi molto molto deciso molto deciso è determinato e che sta bene quindi sicuramente un risultato considerando diciamo il tratto del percorso cioè un'ora e tredici non è male calcolando che non è una mezza maratona diciamo come si è detto prima specifica che possa ottenere dei tempi importanti però è stato un test determinante che poi sentiremo anche in intervista che abbiamo fatto dopo il traguardo quindi però ecco lo vediamo molto determinato considerando anche che non mi sembra poi molto il classico soggetto macro anzi c'è un fisico abbastanza abbastanza portarlo un'ora e tredici insomma mi sembra un ottimo risultato davvero no no poi devo dire anche per quanto riguarda la staffetta che precedeva la corsa tutto funzionante tutto questo aspetto che non ci sono stati assolutamente problemi e qui vediamo in seguito proprio da Buccilli che era distanziato di non più di tanto rispetto alla Battistrada qui proprio facciamo una specie di ping pong per portare del priore al traguardo di Passignano direi ecco la location personalmente mi piaceva più nel centro devo essere sincero però da un punto di vista funzionale questa forse è migliore si capisce chiaramente che l'esperienza degli ultimi due anni nella pioggia ci ha portato ad organizzare nel migliore dei modi per permettere poi agli atleti il ricovero immediato il ritiro degli zaini in maniera semplice quindi ci siamo organizzati proprio per proteggere gli atleti sapendo poi che il tempo sarebbe stato buono ci siamo preparati per la pioggia anche quest'anno esatto qui intanto vediamo Buccilli che transita e poi l'altro atleta della 34 che era Grillo molto molto bene qui intanto vediamo il secondo che è Andrea Lucchetti un ombro anche lui abbastanza quotato anche nella proprio nella regione insomma ecco nelle varie gare che si disputano regolarmente poi al terzo posto invece Tommaso Cardinali mentre dall'altra parte vediamo Cliva che passa al secondo posto addirittura nella gara della 58 quindi insomma distacchi molto molto elevati effettivamente sì già si nota che il passo non è deciso sulla destra vediamo quelli che fanno la 58 sulla sinistra invece Fatichenti che arriva a quarto nella categoria della mezza maratona al quinto posto invece abbiamo Bettarelli e poi al sesto posto Bianchini ecco via via si sossegono poi qui i distacchi incominciano a essere sempre più ridotti rispetto agli altri concorrenti ecco qui invece abbiamo abbiamo detto la Maria Casciotti che ha impiegato un'ora e 24 tutto sommato un buon test e poi dopo la sentiamo molto soddisfatta è piaciuto moltissimo anche la diciamo il percorso queste queste questo tratto diciamo dell'Umbria quindi l'Umbria sicuramente attrae anche sotto questo aspetto qui sono molto soddisfatto non mi aspettavo neanche di riuscire a correre oggi in questo tempo sto preparando una maratona quindi ho un carico di chilometri eccessivi è la prima volta che fai la mezza la strasimeno qui la prima volta che vengo come ti è sembrata dura dura il vento non facilita le cose quindi hai a che fare un po' con qualche salita 10 km di vento contro che comunque ti danno comunque ho visto che hai controllato molto bene la gara dovevo fare un test per la prossima maratona che farò a russi e quindi è andata benissimo ricche facicosa è stata tosta però dai ce l'abbiamo fatta è stata un ottimo allenamento è stata per me tostissima percorso bello maduro saffone insomma poco scorrevole passiamo con Maria Casciotti protagonista della mezza qui della strasimeno prima volta prima volta sì di passaggio da venire a vedere il strasimeno ecco come ti è sembrata come gara come spettacolo meravigliosa meravigliosa il panorama la temperatura giusta ne è valsa veramente la pena fermarsi insomma sul strasimeno e fare questa gara ed ecco proseguiamo quindi lasciamo Passignano anzi costeggiamo il lago a Trasimeno proprio nella zona di Passignano bellissima quella zona credo che anche per gli atleti che correre in questi distrae un attimino appunto di vista anche della fatica eccetera perché ormai comincia a farsi sentire qui comincia già a superare i 21 km siamo un pochino ora molti fanno siamo già a 22 a questo punto e qui siamo ovviamente vediamo proprio ci sono soggetti che fanno la 58 altri che fanno la 34 quindi si comincia un pochino a delineare un po' la forma di quelli che saranno i protagonisti di questa competizione ma come dicevamo prima i distacchi man mano che andiamo avanti aumenteranno perché poi ci saranno ovviamente molta più disparità anche per quanto riguarda le preparazioni di ognuno di questi di questi atleti e qui siamo tornati in un altro tratto sempre di pista ciclabile che viene utilizzata proprio per sgombrare un po' il campo della strada statale che poi come si vede bene diciamo che il fondo è buono effettivamente non è pieno di buche si corre davvero si corre bene ecco considerando il breccino che si trova sotto qui intanto abbiamo visto scusami abbiamo visto Merluzzo che era stato staccato dall'altro diciamo compagno di avventura che era l'inglese ecco qui che ha un vantaggio direi notevole qui quando siamo al 23 24esimo chilometro quindi ancora ci sono 16 chilometri probabilmente questo allungo poi è stato letale per lui perché forse è troppo presto ecco Certic e qui invece abbiamo un trio importante della gara della 58 che sono andati veramente molto bene prima di tutto sono stati insieme e sono velata Popov e Radjokovic questi qui sono gli atleti che stavano un pochino inseguendo la gara insomma ecco quindi e poi Cliva che comincia ad accusare leggermente ancora no ma ancora però ecco comincia a accusare non è il passo deciso classico esatto tutto lì poi una grande preparazione nel deserto ha fatto preparazione nella neve evidentemente non era la sua giornata e qui ecco intanto invece andiamo su Gianfranco Grillo protagonista della 34 che direi che ha un bel passo quindi tutto sommato aveva anche un determinato un importante vantaggio nei confronti di serio e indelicato che sono un po' gli altri che hanno formato il podio e qui Carmine Bucilli che sembra che faccia una gara di 10 km invece che una gara di 58 insomma voglio dire tiene un passo davvero straordinario quindi reggere per tutti i 58 km vuol dire una grande preparazione non vi è dubbio e qui per fortuna un pochino ogni tanto usciva anche qualche spiraglio di sole che riscaldava un po' l'atmosfera anche se era una temperatura ideale direi per correre una gara lunga insomma in questa maniera qui lo vediamo proprio in spinta veramente importante lui aveva proprio questo obiettivo di fare il record della gara insomma non ci è riuscito per poco però direi che ha tutti i presupposti per fare una competizione importante qui lo vediamo al passaggio della 34 proprio solitario con un vantaggio direi importante nei confronti degli altri concorrenti che poi diciamo intanto vediamo invece il vincitore Gianfilippo Grillo dell'over run a Trevi Caterni che va a vincere la gara poi il secondo posto per Massimiliano Di Serio e terzo posto Marco Indelicato ora sentiremo anche un'intervista anche sul protagonista ecco intanto passano addirittura gli atleti della 58 che sono collocati subito dietro Cliva è stato superato quindi già qui le prime avvisaglie si notavano qui però sai è un personaggio anche lui che risorge costantemente quindi a certo punto anche io quando l'ho visto fermo forse ripartirà effettivamente l'ha ripartito poi probabilmente non è riuscito a mantenere quella condizione oppure quella forza che poteva permettergli di proseguire fino alla fine evidentemente sì qualche problema nella sua preparazione o anche qualche problema fisico del resto reggere tutti questi chilometri con quel passo che sostengono insomma non è semplice richiede sicuramente una grande preparazione evidentemente non era a questo livello la gara devo dire un po' duretta un po' duretta però bellissima senz'altro è la prima volta che facevi questa distanza la seconda però la prima volta che l'ho fatta ero molto meno esperto e quest'anno tornato poi l'ho vinto anche l'altra volta hai un obiettivo ben preciso a breve scadenza sì l'obiettivo di Londra 28 aprile ammazza allora oggi via ecco qui intanto proseguiamo perché ovviamente aspettare la prima donna significava perdere il treno con gli altri concorrenti quindi siamo stati costretti il nostro malgrado diciamo di proseguire con la competizione ormai seguendo la 42 e la 58 che cominciava ad essere interessante e qui vediamo Matteo Merruzzo che lo vediamo abbastanza affaticato in questa fase qui sembrava veramente un po' in netta difficoltà poi tutto è successo nel vedere da lontano che Certic scedeva qualche metro ecco che intanto vediamo il momento in cui Gliva si ferma sembra quasi che si fermi completamente che aspetti qualche uno quasi che lo porti via poi invece ripartirà ecco intanto vediamo Certic che è sempre un bel vantaggio insomma qui siamo a circa 3-4 km dalla 42 e vediamo che Matteo non demorde quindi direi che è stato determinante anche le caratteri di questo di questo ragazzo è il ragazzo che si allena davvero lui in gara sembra sofferente per tutto il percorso ma forse in realtà è l'espressione sua mentre corre perché poi invece torna fuori lui si allena costantemente tutti i giorni fa un percorso impegnativo salita discesa di 18-20 km ogni giorno si alza presto quindi c'è una costanza incredibile il momento che sta per avvicinarsi qui c'è stato il ristoro laggiù si è fermato Certic ha cercato di rifocillarsi questo gli ha fatto perdere qualche secondo però ecco ha permesso alla mente anche di Matteo di dire ma forse lo posso prendere quindi lo vede qui diventa un discorso psicologico poi si rivolge costantemente l'inglese ormai sembra perduto quando vedi questa situazione qui è quasi automatico insomma ecco che succeda quello che è avvenuto poi addirittura non lo guarda neanche quando l'arriva e lo passa di slancio quindi per uno che viene superato in questi momenti è come se fosse una frustata in mezzo alle gambe determinante proprio ti taglia ti taglia nettamente quindi lo vediamo che passa sopra e ormai a questo punto qui dice non ce n'è più per nessuno insomma è stata veramente una bella lotta una bella lotta questa qui veramente molto incerta abbiamo lasciato i protagonisti da 58 perché ormai volevamo vedere come finiva questa storia della 42 io in effetti ero alle premiazioni quindi ho cercato di fare in tempo ad arrivare a Sant'Arcalgero per il suo arrivo ma proprio qualche secondo dopo è arrivato ecco che vediamo l'arrivo addirittura con versione un po' particolare eccola qua proprio la rabbia e poi sentiremo anche l'intervista dopo l'arrivo anche del secondo che effettivamente è stata una specie di liberazione da parte di Matteo però sta bene effettivamente sta bene tranquillo evidentemente lo sforzo c'è stato però mi sembra che l'abbia l'abbia vissuto bene ecco il secondo e che vediamo anche il secondo che comunque sia poi dopo cioè congratulazione anche per per la vittoria che non è soddisfatto anche della seconda posizione forse non ce l'aspettava neanche lui non ce l'aspettava ti avevamo visto in difficoltà intorno al trentaseiesimo chilometro e poi piano piano vedendolo sento più vicino quando ho visto che potevo vincere è stato tutto cioè non ce la facevo più però è andato bene ecco la sensazione che hai avuto quando l'hai superato proprio dopo subito quel ristoro che lui si è fermato ho visto che forse io potrei andare di più quindi ho cercato di vincere a quel punto e qui siamo si prosegue e si prosegue con la gara del 58 chilometri che vediamo il il secondo concorrente che è Stefano Velatta e no Stefano Velatta è questo mentre per quanto riguarda era Popov che probabilmente ha perso ecco no con il petrolio 3 si è Velatta si poi con il petrolio 4 invece è Popov ecco che vedete questa qui è la nuova pista ciclabile una pista ciclabile quindi la realizzeranno da quel tratto in poi fino all'arrivo sarà fatta con le stesse caratteristiche quindi è una ciclabile però asfaltata quindi ci avrà le condizioni ideali anche per spingere quindi la reattività della scarpa sicuramente si farà sentire quindi gli ultimi 16-18 chilometri saranno così io mi auguro per il prossimo anno non so se ce la faremo però sicuramente se non è il prossimo anno al massimo il 2021 sarà completata e qui intanto vediamo che Carmine Buccilli ancora in perterrito anzi qui era un'azione che ancora stava spingendo molto bene addirittura come dicevo gli ho fatto un'intervista ma le voci non si potevano percepire bene quindi l'abbiamo un pochino annullata sarebbe stato carino perché poi lui diceva che non era nelle condizioni di poter fare il record perché ha perso alcuni momenti di lucidità proprio di brillantezza muscolare quindi non mi ha permesso di fare questo e poi ovviamente ha proseguito poi c'è stato un momento di crisi momentanea che ha superato aveva in quel momento lì aveva circa 10 minuti 12 minuti di vantaggio nei confronti del secondo concorrente quindi era veramente si lo poteva permettere esatto esatto quindi ha recuperato in maniera graduale è ripartito ovviamente la fatica comunque si fa sentire quando comincia ad arrivare 50 che siamo proprio all'inizio diciamo di Castiglione del Lago e qui lo vediamo che il passo è cambiato notevolmente dal tratto in cui l'avevamo lasciato in precedenza ma lui in effetti ecco anche l'anno scorso più o meno qualche chilometro prima era andato in crisi però è ripartito sì sì è un atleta che ormai sa dosare bene le sue forze è abituato anche lui si cementerà sulla 100 km anche lì mi sembra che non è riuscito a finirla quindi tenterà anche di completare questa gara però ecco mi sembra che sia un ragazzo in gamba abbiamo visto poi i figli al traguardo che quando sono arrivati insomma sono andati a abbracciarlo quindi questa è una cosa molto carina quest'anno avevamo invitato anche Calcaterra per questi 58 km non è potuto avvenire perché una settimana prima ha corso la 100 km mi sembra le Hawaii quindi era impensabile che poteva essere presente poi non è che si può improvvisare 50 km ogni settimana o 100 che siano insomma poi anche muscolarmente si risentono qui intanto vediamo ecco lungo il lago Trasimeno fra l'altro uno spiraglio di sole permetteva proprio di vedere anche questo scorcio con colorazioni particolari che permettono agli atleti di completare questa gara quest'anno l'arrivo fra l'altro non era su nella Castiglione del Lago quindi nel centro cittadino ma nella parte bassa quindi forse anche la stanchezza che hanno accumulato diciamo ha permesso di recuperare più facilmente l'arrivo certamente l'arrivo in pianura eccoci quindi all'arrivo e poi quest'anno ho visto molto più pubblico anche al traguardo quindi questo vuol dire che la location ha permesso di avere anche più presenza da parte degli atleti delle diciamo del pubblico all'arrivo e qui vediamo proprio il figlio che mette la medaglia al babbo veramente bello la presenza dei figli è veramente straordinaria condividono con i genitori speriamo che sia un presupposto affinché anche i figli seguono lo stesso lo stesso sport del padre e qui vediamo al secondo posto Stefano Velatta anche lui grande personaggio ha fatto un'ottima prestazione poi vediamo Popov che nel finale ha perso qualche qualche posizione diciamo così qualche metro però ancora in spinta insomma quindi atletiche sta bene sta bene non male poi al quarto posto è arrivato Robert Radokovic e poi al quinto posto è Matteo Zucchini ecco che per quanto riguarda invece il settore femminile e qui ovviamente abbiamo visto la Moroni veramente grande protagonista indiscussa di questa di questa competizione che vediamo ecco l'arrivi ancora dei vari concorrenti aspettiamo l'arrivo della Moroni poi le interviste e chiuderemo un po' la trasmissione sì devo dire che la Moroni è veramente una bella atleta io l'ho vista lungo il percorso nei vari passaggi eccola qua è una bella atleta insomma io credo che veramente ha dato prova della sua preparazione auguriamoci che ci possa essere anche il prossimo anno veramente straordinario ecco qui ora vediamo dovrebbe essere l'intervista per Carmine Buccilli che completerà un po' questa trasmissione ricordando poi che domenica c'è la camminata della Valdichiana a San Zeno partenza ore 10 una gara di circa 14 chilometri e mezzo con un misto di trail e un misto di sterrato e di asfalto e quindi l'appuntamento per il circuito del Grand Prix sarà domenica 24 è bravissimo che siamo ero riprofesso di partire più piano però come al solito ho sbagliato gara passaggio all'ammaratura troppo forte sotto le 2.30 ho pagato gli ultimi 8 km di partire più piano Grazie a tutti.